Cari amici, buonasera, facciamo un bel video calcistico stasera. Non ci siamo sentiti in verità per il post della partita di campionato dell'Inter del recupero, col Benevento, perché va bene, diciamo che è stata una vittoria facile, anche se con qualche amnesia difensiva, ma poi alla fine non volevo dare critiche in un momento in cui tutti quanti ci stiamo esaltando. Oggi però non è che faccio questo video così in ritardo, no, oggi ci sono state una cosa importante, i sorteggi Champions. Ora com'è andata? Vi leggo prima il girone delle italiane, vi leggo soltanto. Allora, vediamo l'Atalanta, ha preso una squadra, non so se è finlandese o un nome strano, un nome strano, insomma è una guastafascia, poi c'è l'Ajax e il Liverpool. Quindi l'Atalanta gioca con due squadre come il Liverpool e l'Ajax che fanno un gioco, diciamo, spumeggiante, simile a quello dell'Atalanta. Quindi sarà un bel girone, anche se credo che l'Atalanta abbia ottime chance, perché certamente il Liverpool è il Liverpool, ma l'Ajax è inferiore all'Atalanta. Poi la Juve ha preso il Barcellona, vabbè, diciamo, una pari forza di questi tempi, ma forse, diciamo, il Barcellona è ancora superiore alla Juve. E il Ferenciovaros è la Dinamo Kiev. Anche qui, ovviamente, non credo che la Juve abbia dei grossi problemi. La Lazio, la Lazio invece è un pochino più ostico al girone, perché ha preso il Club Brugge, come qua sta fascia, il Borussia Dortmund, Borussia Dortmund, di nostra, ahimè di nostra conoscenza, e lo Zenit. Quindi Zenit e Borussia Dortmund sono dei clienti poco raccomandabili. Noi invece, noi dell'Inter, abbiamo preso il Real Madrid, e vabbè, chapeau, poi lo Shakhtar e il Borussia Mönchengladbach. Diciamo che come seconda fascia siamo andati da favola, perché lo Shakhtar ormai non è quella squadra brillante che era negli anni passati, noi già l'abbiamo battuto pochi mesi fa. Quindi, una seconda fascia ottima. Però, di contraltare, abbiamo avuto una quarta fascia, diciamo, non troppo materasta, non troppo agevole, perché c'è un signor Borussia Mönchengladbach che, pur non essendo una delle principali squadre tedesche, ma è sulla carta la quarta squadra del campionato tedesco. Quindi, non proprio agevole questo Borussia Mönchengladbach. E il Real Madrid è una squadra storica. E diciamo che, per una parte, io sono moderatamente soddisfatto, perché, anzi, vi dico che preferisco che la quarta di fascia, cioè il Borussia Mönchengladbach, sia capitato con noi, perché l'Inter, io credo, che sia una squadra che ha bisogno, sempre, di stare sul pezzo, di stare sulla corda, di essere concentrato. Magari noi avremmo perso qualche punto se avessimo preso, non so, il Rennes, il Kreb Rouge, oppure il Lokomotiv, magari pensando che fossero squadre materasso. Ma, invece, con il Borussia e con lo Shakhtar, noi non possiamo sottovalutarle. Quindi, è con loro che ci giochiamo, soprattutto, il secondo posto. Poi, per carità, noi possiamo anche giocarci la Corte al Madrid. Perché no? Real Madrid non ha più quei fastidi una volta e noi, con un po' di fortuna, credo che, addirittura, possiamo abitare al primo posto. Però, vedete, alla luce dell'anno scorso e di due anni fa, non è che si può essere molto ottimista. Però, noi, quest'anno, credo che abbiamo qualcosa in più. Abbiamo un certo campo migliore, abbiamo un'esperienza, abbiamo i giocatori più esperti. Quindi, io concludo dicendo che quest'anno l'Inter deve, deve innanzitutto passare il girono di Champions e poi, e poi, e poi si vedrà. Poi tutto sarà, ovviamente, più difficile, ma più emozionante. Quindi, forza ragazzi, forza Inter. Ah, l'ultima cosa, e poi giudo, finiamola, finiamola, finiamola. Di dire il campionato, si sospende, no, non si sospende, perché ci stanno i positivi. Vedete, noi siamo in Europa, non siamo sulla Luna, non ci dobbiamo sempre contraddistinguere per coloro che sono i più negativi di tutti, coloro che sono i più catastrofisti di tutti. Ci sono delle regole, delle regole internazionali, ok? Allora, quando uno è positivo vuol dire che è come se fossi infortunato. Se in una squadra, malaguratamente, ce ne sono 5, 6, 7, 8, 10, non giocano, non giocano per due settimane, punto è basso e si va avanti. Il regolamento europeo dice che ci devono stare 12 della rosa più importiere e si può giocare. Quindi, se una rosa, mediamente, è di 30 elementi nelle squadre di Serie A, e io non credo che contemporaneamente ci possano essere 20 positivi su 30, perfino il Genoa, che ne conta fra, diciamo, i giocatori, circa 8-9 fra quelli che giocano, beh, allora, ce ne sono altre 20 che possono giocare. Signori miei, quindi finiamola, perché il calcio non è solo il divertimento del weekend, no, il calcio è un'industria, è vita, è emozione ed è voglia di vivere, voglia di iniziare, voglia di intraprendere, è tutto l'indotto e l'Italia che vuole andare avanti, che vuole migliorare, che vuole sentirsi all'avanguardia in Europa e nel mondo. Non facciamo gli sfattisti. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao.